Steve Bannon, l'ex guru della strategia politica della Casa Bianca, è agli arresti a New York insieme a Brian Colfage, Andrew Badlato e Timothy C., cioè gli altri truffatori che hanno incassato i fondi della campagna di crowdfunding online nota come Costruiamo il Muro, la barriera per impedire l'arrivo dei migranti dal Messico. Un bottino di oltre 25 milioni di dollari. Non solo hanno mentito ai finanziatori della campagna, li hanno truffati nascondendo l'uso reale dei fondi, molti dei quali andati a finanziare il loro stile di vita. Bannon è stato anche amministratore delegato della campagna del Presidente Trump nel 2016.